Anche da persone che all'estero sognano di vivere questa tradizione, che è il ritmo, ma che è anche il coinvolgimento. Ed è sempre di più solidarietà, cultura, in senso più generale. La tradizione si nutre dell'innovazione. E quindi oggi, Collega Ambiente, presentiamo insieme a Banca Intesa questo nuovo progetto che serve proprio per tenere alta la sensibilità ambientale. Ci sono stati anni in cui questa sensibilità oggettivamente non è stata vissuta e si sono fatti gli escempi nelle città, ma ancora oggi ci sono cittadini che non curano le loro città, che le disprezzano, le rovinano. Invece l'ambiente è un bene comune nel quale tutti abbiamo bisogno. Allora è bello che la cultura, l'arte e la bellezza si uniscano a progetti di grande valore civile e sociale. E noi ringraziamo tutti coloro che collaborano con noi per questi obiettivi.